assottiglierai le tue energie centro spirituale frattocche attraverso flora a cura tv guida nel piccolo c'è il grande e nel saper essere assottiglierai la tua energia e riuscirai a far muovere intorno a te una vibrazione sempre migliore sei un sole luminoso nel senso che emani ciò che sei quello che chiami stati d'animo segnano la tua energia e se sei iroso burrascoso e inquieto trasmetterà ira e inquietudine a chi ti è vicino può succedere che un uomo di malumore coinvolga altre persone nel suo malumore in questo caso è l'energia del malumore ad aver preso il sopravvento e a vibrare nelle persone può darsi che una persona di cattivo umore ne incontri qualcuna di buono umore e che quest'ultima coinvolga la prima è come se ci fosse uno scontro tra energie e a dominare è quella più forte più decisa più sentita grazie a tutti